Ciao sono Enzo, benvenuti all'interno di questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento poco trattato, ma secondo me davvero molto importante, ovvero la selezione delle foto. Ma intanto l'intro, poi vi spiego meglio. Ma intanto, se non mi conosci, mi chiamo Enzo Alessandra, sono un fotografo freelance specializzato in fotografie di ritratte still life, che dedica sempre più tempo per aiutare foto amatori e aspiranti professionisti attraverso dei percorsi personalizzati, nel quale vado a seguire ogni singolo studente. Chi fosse interessato, link in descrizione, e per il resto iscriviti al canale per non perdere altri contenuti come questi. Passiamo adesso a quello che è l'argomento di questo video, quindi come andare effettivamente a fare la selezione delle foto, che, come detto prima, non è un argomento molto trattato, ma parlando con tanti studenti, vedo che è comunque un qualcosa di ricorrente. Proverò allora all'interno di questo video a darvi dei suggerimenti pratici per andare a risolvere anche questo problema. Adesso, quello che succede normalmente, soprattutto nell'era della fotografia digitale, è che nel momento in cui si esce per fare uno shooting, magari una qualsiasi sessione fotografica, che siano foto di paesaggio, di ritratto, di street, quello che vuoi, si iniziano a scattare tutta una serie di foto, possono essere 50, 100, 200 e anche più fotografie, che vanno leggermente a intasare quella che è non soltanto la memoria della fotocamera, quindi dell'SD, ma anche nel nostro PC. Adesso è normalissimo chiaramente procedere in questo modo, ma vedo che poi c'è qualche difficoltà, molto spesso, ad andare a capire quali foto puoi effettivamente andare a selezionare, perché non è raro e capita anche a me di magari anche 300, 400 foto, poi andare a scegliere semplicemente 5, 6, 7 foto al massimo, che sono quelle che magari mi hanno convinto di più all'interno di uno shooting. Quindi da questo punto di vista, e anche grazie al digitale, chiaramente fare tante fotografie, ma chiaramente sempre con un ragionamento dietro, è sicuramente qualcosa di utile, ma appunto vedo che molto spesso le persone, parlando soprattutto con gli studenti, ci si confonde un po', non ci sa bene poi come andare a applicare, o meglio che tipo di criteri andare a applicare, proprio per fare una selezione che sia sensata. E per cercare di dare una soluzione a questo potenziale problema, dobbiamo però fare un passo indietro. Ovvero, è vero che la selezione è importante, ma secondo me bisogna prima, quindi a monte, andare a fare un certo tipo di riflessione, proprio prima di iniziare a scattare, prima di iniziare a fare un determinato tipo di shooting. Ovvero, avere ben chiaro che tipo di scatti vogliamo andare a realizzare, e avere in mente quelle 3, 4, 5 varianti, magari soprattutto di inquadrature, quindi possiamo parlare di inquadrature larghe, inquadrature magari intermedie, dei particolari, così da organizzarci già mentalmente per avere una serie di scatti che sia già anche più facile da selezionare, perché appunto è un qualcosa che se fatto magari non con criterio, può veramente farci perdere albero tanto tempo. Adesso, giusto per fare un esempio pratico, prendiamo in considerazione uno shooting che potrebbe essere di ritratto, sia in esterno che in interno, questo è irrilevante, ma allo stesso tempo non è qualcosa di strettamente collegato alla fotografia di ritratto, perché è un qualcosa che può essere rapportato a qualsiasi genere della fotografia, che sia appunto anche paesaggio, street, eccetera, eccetera. Quindi, in questo caso, come potremmo andare a organizzare nel migliore dei modi di questo tipo di lavoro, quindi questo tipo di shooting, direi che appunto con l'esempio della fotografia di ritratto potremmo intanto prepararci mentalmente a capire quelli che potrebbero essere quei 3, 4, 5 punti di vista da andare a selezionare già proprio mentalmente. Che cosa voglio dire nel pratico? Che se ad esempio appunto voglio fare la fotografia di ritratto a una singola persona come anche una coppia o anche più persone, mi vado già a raffigurare mentalmente quelle che potrebbero essere non tanto le pose, perché lì poi magari varia in base al contesto che c'è, in base alla persona, eccetera, eccetera, ma sto parlando di quelli che potrebbero essere, ad esempio, sicuramente una serie di scatti in primo piano, una serie di scatti magari della figura intera, mezzo busto dei particolari che magari non necessariamente magari vanno a prendere quello che è il volto della persona, se vuoi anche magari dei particolari molto stretti sugli occhi, quindi decidere a priori appunto come dicevo prima quei 4, 5, 6 inquadrature magari di dettagli e figure intera che voglio andare a realizzare. Questo già ci mette in una posizione secondo me più organizzata, nel senso che sappiamo che se vogliamo iniziare ad esempio con la figura intera andremo a fare lì quei 10, 15, 20 scatti concentrandoci appunto su quelle che sono non soltanto le pose ma anche appunto le inquadrature sulla figura appunto intera. Poi andremo a fare altre tanti scatti magari su quello che potrebbe essere un primo piano, lo stesso per il mezzo busto, eccetera, eccetera. E già questo vi permette di avere a fine sessione quei 200, 300 scatti che saranno, ma già in parte ben organizzati, quindi già vi assicuro sarà molto più facile andare a fare da questo punto di vista, una selezione degli scatti perché già se abbiamo fatto quelle 4, 5 inquadrature già necessariamente almeno una foto appunto per pose la dobbiamo andare a scegliere, quindi magari una figura, una foto di figura intera, una foto di ritratto stretto, eccetera, eccetera. Anche lì magari chiaramente non devono essere necessariamente 5, potrebbero essere 10, 15, quelle che volete, ma penso che sia passato il concetto. Adesso arrivati a questo punto, quello che si fa normalmente magari è andare a scegliere quelle singole fotografie che per qualche motivo magari ci colpiscono di più, secondo noi sono venute meglio, sono meglio illuminate, eccetera, eccetera, però si perde dal mio punto di vista qualcosa di molto importante, ovvero riuscire a vedere già nell'insieme quello che è appunto anche una piccola raccolta di fotografie. Ripeto, possono essere quelle 4, 5, 10 fotografie, ma è bene sin da subito iniziare anche a ragionare a gruppi di foto. Questo perché, come detto spesso, magari in altri video, in realtà lo dico spesso anche ai miei studenti, il fatto di dover scegliere delle fotografie molto spesso e anche purtroppo va a comportare il fatto di non scegliere tutte quelle che sono magari le fotografie migliori. A volte bisogna anche necessariamente scartare magari una o due fotografie particolarmente ben riuscite perché magari non vanno a legare bene con quello che è il contesto generale. Quindi lì bisogna anche essere un po' rigidi con se stessi, quindi andare a fare effettivamente una selezione che vada a rendere il meglio possibile poi nell'interesse del progetto, tra virgolette, fotografiche. Progetto intendo veramente anche quella piccola selezione di fotografie. E da lì cercare soprattutto, intanto secondo me, scegliere per un principio di coerenza, quindi trovare delle fotografie che siano anche accostabili tra di loro, sia per quanto riguarda il colore, il contrasto, il soggetto chiaramente, che è all'interno delle foto, come anche allo stesso tempo un discorso di varietà. Quindi coerenza e varietà. Varietà chiaramente perché se ho, ad esempio, parlando sempre della fotografia di ritratto, se vado a scegliere 5 ritratti stretti della modella perché sono venuti particolarmente bene, capite che andare a guardare quel tipo di foto è abbastanza noioso magari per poi chi va a guardare, perché manca proprio di varietà. Quindi cosa scegliere in questo caso, sempre nella fotografia di ritratto, appunto scegliere magari una pose intera, un mezzo busto, un particolare, potrebbe essere le mani, una parte del vestito, quello che vuoi, uno o più ritratti stretti, magari a patto che siano abbastanza diversi da loro, quindi magari se uno è frontale, banalizzo giusto per capirci, se uno è frontale magari l'altro sarà un po' più di profilo, di scorcio, quello che vuoi. Però è importante mantenere anche questa varietà all'interno della scelta fotografica. Detto questo, questo video finisce qua, se non l'hai ancora visto e vuoi imparare a fare delle belle fotografie senza troppi fronzoli o tecnicismi, ti consiglio di guardare questo video perché ti va a spiegare esattamente quelli che sono i reali principi per fare appunto delle belle fotografie e per il resto lascia un commento, like se ti è servito questo video, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao e a presto!